Ma cosa ne pensate degli effetti speciali del Signore degli Anelli? Ormai sono passati circa più di vent'anni dal primo film uscito nelle sale, ovvero La Compagnia dell'Anello, e sicuramente si può dire che la pellicola si è invecchiata molto molto bene. Ed oggi sono qua a parlarvi un po' di quelli che sono tutti gli effetti speciali, o perlomeno quelli che si riconoscono meglio, della pellicola targata Peter Jackson. Quindi se siete interessati alla visione, continuate a vedere questo video. Ciao, sono Captain Nerd e bentornati su Chuck e Azioni. Ebbene, il nostro Peter Jackson non si è limitato a miniature e modellini per la sua grandissima pellicola, ma si è affidato anche a degli strepitosi effetti digitali per dare vita al mondo di Tolkien in un modo unico. E dietro alle incredibili sequenze del film c'era la Weta Workshop, ovvero un'azienda che comunque si occupava di modellini, sculture, make-up, e diciamo che ha avuto a che fare anche nel film grazie alle sue meravigliosissime protesi, armi ed armature, che hanno resso praticamente questa trilogia impeccabile. Tra l'altro, per non stare ad affidare la computerizzazione degli effetti ad un'azienda esterna, ha deciso di creare lei stessa una sua divisione, chiamata la Weta Digital, che si occupava comunque degli effetti speciali. E il loro lavoro migliore, che comunque ha dato risultati più sorprendenti, è stata la realizzazione di Gollum, che è la grandissima creatura che ci accompagna durante tutta la trilogia del nostro Signore degli Anelli, realizzata con una fantastica motion capture, che fa in modo di ritrarre sia i movimenti del viso che quelli del corpo in una maniera stra-realistica. Guardatelo bene, perché forse Gollum barra Sméagol è una delle cose più belle della saga Il Signore degli Anelli. E persino l'attore che lo ha interpretato, ovvero Andy Sergis, ha detto che è stata un'esperienza spettacolare. Poi però si è dato alla regia di Venom e lì ha rovinato la sua vita. Comunque, tornando al discorso della Weta Digital, ovvero la divisione che si occupava degli effetti speciali, è stata proprio lei ad integrare il personaggio di Gollum e farlo interagire con le persone vere, che come sapete bene, una creatura fantastica accanto a un essere umano non è facile da realizzare, soprattutto se siamo a inizio degli anni 2000. E sappiamo bene che la fantascienza, prima degli anni 2000, produceva un po' dei disastri a livello visivo e a livello grafico. E col Signore degli Anelli diciamo che è nata una nuova era per quanto riguarda la risoluzione degli effetti speciali. E la Weta Digital lo ha saputo rappresentare in una maniera mostruosa. Si è anche ingegniata con alcuni trucchi che provengono dalla vecchia scuola, come per esempio la prospettiva forzata con la quale il regista ha potuto ovviare alla differenza di corporatura e altezza tipica dei personaggi di Tolkien, che potevano creare problemi interagendo insieme sullo schermo, un esempio su tutti la differenza di altezza tra gli umani e i piccoli hobbit. Questa prospettiva forzata è una tecnica che si basa sul porre gli oggetti e i personaggi che devono sembrare più grandi molto vicini all'obiettivo, mentre quelli che devono sembrare più piccoli vengono posti lontani da esso. Ci sono esempi in questa tecnica riconducibili a tante tipologie di foto che abbiamo scattato tutti nella nostra vita. Basti pensare a tutti coloro che visitano Pisa e scattano una fotografia in cui fanno finta di reggere la celebre torre pendente. E nel caso del film la situazione è un po' più complicata perché comunque bisognava fare in modo che due persone si guardassero negli occhi quando in realtà stavano distanti o lontani oppure che stessero accanto quando in realtà fossero un po' più sfalsati. E di fatti proprio a causa di questa cosa io presumo che per la realizzazione del film siano stati consultati anche degli ottici che abbiano saputo dare un'impronta che abbiano saputo aiutare la realizzazione tecnica della pellicola. E oltre a fare questo discorso con delle persone o delle creature dobbiamo farlo anche con degli oggetti o con delle armi che di fatti se una spada può sembrare più piccola nelle mani di un hobbit può risultare più grande nelle mani di un essere umano, un elfo, un orco. E quindi attraverso questa tecnica hanno fatto in modo anche che la stessa arma possa risultare più piccola nelle mani di una persona più grossa e più grande nelle mani di una persona più piccola. Quindi pensate voi il nostro Peter Jackson quante ne ha studiati per rendere al meglio questo capolavoro. Di fatti non si può dire che il nostro Signore degli Anelli non sia sulla bocca di tutti da più di vent'anni. Ed è invecchiato anche molto bene dato che comunque molti prodotti usciti recentemente non hanno per niente a che fare con questa trilogia ma per niente proprio livelli bassissimi eppure sono passati più di vent'anni. Quindi si può dire che il Signore degli Anelli sia una meraviglia sia di arte che di tecnica perché difficilmente puoi trovare una trilogia fatta così bene ma proprio con questi dettagli assurdi potresti trovare un film che abbia degli effetti speciali migliori o che comunque abbia dei costumi migliori ma che abbia tutte queste cose insieme fatte nella maniera più bella e fantastica possibile lo vedo molto difficile. Quindi ragazzi fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di questo mio pensiero e se il video vi sia piaciuto o meno. In ogni caso seguiteci su Facebook e Instagram e iscrivetevi al nostro canale su YouTube cliccando sulla campanella che è sempre una cosa importantissima. E da Captain Nerd qui oggi è tutto e noi ci rivedremo presto a un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!